Laura Bianchini, 51 anni, sposata con due figli all'università e avvocato, membro del CDA di una banca, in passato è stata vicepresidente del Parco del Mincio. A 23 anni entra nel mondo della politica e ci rimane per 18 anni senza trascurare nella professione dell'impegno civico. Ma perché ha deciso di candidarsi come sindaco di Porto Mantovano? Mi trovo in una condizione in cui penso di dover restituire anche qualcosa alla mia comunità, una comunità che mi ha sempre aiutato nella mia crescita, mi ha sempre sostenuto. A fronte di un bisogno penso di non poter negare il mio impegno. Porto Mantovano, che è comunque un territorio di eccellenza per le strutture che ha, per le risorse umane di cui gode, negli ultimi anni devo dire che si percepisce un declino, sia nella gestione degli edifici pubblici, ma soprattutto non tanto per ciò che è stato fatto o non è stato fatto, ma perché manca veramente una visione e manca la visione veramente di comunità. Io vorrei ridare il senso di comunità. Per questo il distacco dai partiti nel progetto politico è la scelta dell'appoggio di persone che hanno lo stesso minimo come un denominatore, vale a dire competenza, valori, cuore e amore per la comunità. Ma quali sono le priorità? Penso che le famiglie vadano sostenute a 360 gradi. Mi ispiro a un modello di comunità educante, nel senso che vorrei mettere a sistema quelle che sono le risorse dell'ente pubblico con quelle che sono le risorse, chiamiamole, umane del territorio. Perché ognuno di noi si deve far carico e deve prendere in carico i bisogni reali delle famiglie, che sono la cura dell'infanzia, la cura degli anziani e il tessuto produttivo. Penso che il lavoro sia un tema di dignità, in particolare come azione amministrativa. Terrò bene a mente l'obiettivo degli asili in idogratuiti. La parità di genere passa anche da questo. Non sostenere le donne vuol dire infatti impoverire le famiglie e di conseguenza il paese. Fondamentale che parrocchie, associazioni e istituzioni trovino delle soluzioni lavorando non in concorrenza ma in sinergia. Particolare attenzione meritano i giovani e il mondo del volontariato. Un sindaco donna può avere un valore aggiunto? Non sono certo quella che pensa che le donne siano meglio degli uomini, però penso che le donne si siano trovate in questi anni e da sempre probabilmente a gestire una complessità. Hanno maturato questa capacità veramente di essere consapevoli dei problemi di conciliazione di famiglia e lavoro. Hanno proprio la consapevolezza dei bisogni della famiglia che non sono solo i giovani, ma sono anche gli anziani. Allora io penso che l'ente pubblico debba avere l'umiltà di guardarsi attorno e di comprendere quelle che sono le risorse che per spirito di volontariato ad esempio possono dare qualcosa, ma anche il senso di responsabilità di mettere a loro disposizione le proprie strutture e le proprie risorse economiche. La parola d'ordine è assolutamente comunità.